Siamo qui tra gli stand del Festival Francescano in questi giorni della manifestazione, in particolare siamo nello stand dedicato ai giovani, condotto da una serie di sorelle e abbiamo con noi in particolare adesso Sor Silvia, che è delle suore clarisse francescane, missionari del Santissimo Sacramento, l'ho detto quasi giusto, però ecco in questo stand ci sono anche altre congregazioni, suore di varie congregazioni francescane. Qual è il senso della vostra presenza qui? Cosa fate in questo stand? Allora prima di tutto vogliamo far vedere la presenza francescana che è una presenza di gioia ed è la gioia semplice dell'incontro con il Signore, quindi questo è quello che noi vogliamo prima di tutto trasmettere, che è una gioia che può essere accessibile a tutti, non è accessibile solo a noi perché siamo speciali, ma veramente nessuno è speciale perché tutti sia speciali allo stesso modo, ed è veramente la gioia semplice e umile, quella che noi abbiamo incontrato che vorremmo riuscire a farla trasmettere a tutti e a farla conoscere a tutti. In particolare in questo stand per trasmettere questa gioia e farla conoscere cosa fate? In particolare qua facciamo un test, viene proposto ai giovani, dove poi viene consegnato un profilo ai giovani che dà la possibilità a noi di avvicinarci a loro e ai giovani di avvicinarci a noi, per cercare in effetti quello che è il profilo loro ma quello che è il senso veramente anche dello stare, perché secondo noi se uno si ferma ha anche un motivo per fermarsi. Oltre a questo abbiamo un altro gioco che è quello dei colori, dal colore ti viene richiamato ad un'altra cosa in modo particolare, quindi te dici un colore che però ti viene poi richiamato ad un altro colore, perché in effetti quello che sei non è mai quello che sei realmente, ma c'è come ti vedono è quello che sei. Anche lì viene consegnato poi un altro profilo con la parola di Dio in particolare e poi c'è alla fine nello stand della Carità viene presentato invece questo Centra la Gioia ed è proprio una ricerca della gioia che noi abbiamo raccolto in dove si ritrova la gioia, si ritrova nell'ascoltare, nel vedere, nel parlare, quindi nello trasmettere e la cosa più importante abbiamo messo questa mano, questa mano sotto che ha l'interpretazione doppia, la mano del Signore che ci sorregge, quindi ci dà la gioia, la nostra gioia viene dal Signore, la nostra gioia viene da noi che comunque teniamo noi, tentiamo di raccogliere i poveri, quelli che si avvicinano a noi. Queste sono le tre attività principali degli stand.